Nel raggio di 500 metri dal centro di raccolta rifiuti di ASM Voghera, bruciato lo scorso 10 luglio, rimane il divieto di raccogliere e mangiare frutta e verdura. Lo ha stabilito con un'ordinanza che proroga, quella precedente, il comune di Voghera, seguito delle nuove rilevazioni di arpa che confermano la presenza di diossine nell'aria. Secondo gli ultimi dati, diffusi 5 dei circa 20 rilevatori installati nell'area indicherebbero infatti la presenza dell'inquinante in grado di contaminare i prodotti della terra, almeno potenzialmente. La durata dell'ordinanza, ha spiegato il comune, sottolineando che si tratta di un provvedimento precauzionale dipenderà dai risultati delle prossime analisi di arpa e dalle successive valutazioni di ETS Pavia. Al di là della paura e dei disagi per i cittadini residenti nella zona di strada Folciona, l'incendio, probabilmente di origine dolosa, ha provocato gravi danni alle strutture del centro e imposto una nuova logistica per la raccolta dei rifiuti della città, che finché non sarà ripristinato, il centro distrutto dalle fiamme, ma ci vorranno sicuramente mesi, saranno portati nell'impianto Forsu di strada del Postiglione.